Ciao a tutti ragazzi sono Stefano Castiello e benvenuti anche oggi in questo nuovo video Bitcoin in questo momento che sto registrando è su 23.661 e in questi giorni ve ne sto parlando ho detto ragazzi questi sono livelli molto importanti e soprattutto ancora vediamo sul giornaliero l'incrocio tra la media esponenziale a 26 periodi e quella a 12 periodi cioè la media questa qui gialla che va sopra quella a 26 e questo è un incrocio bullish sono super contento e super positivo però come al solito vi dico sempre di stare attenti perché il downtrend è molto marcato e potremo benissimamente continuare a scendere certo se continuiamo a vedere questa forza realzista se gli shorts continuano ad essere comunque liquidati potremmo ripeto per l'ennesima volta avere una forza che ci potrebbe portare anche su livelli davvero importanti come in questo caso sui 25.397 che sarebbe quel forte crash che è avvenuto il 12 maggio quindi come primo livello, come prima resistenza che mi aspetto di rompere per adesso è questa qui di 25.000 nel caso in cui dovessimo fare una cosa del genere cioè che il prezzo arriva qui diciamo tocca questa resistenza e ritorna in basso e poi alla forza di tornare in alto e romperla del tutto potrebbe essere questo un buon segno e arrivare addirittura anche su 29.000-30.000 per bitcoin questi qui sono un po' i livelli che sto monitorando io ve ne parlo sempre e se guardate i miei video vecchi già avevo anticipato queste mosse di bitcoin vi ho detto che avremmo tranquillamente raggiunto i 23.000-24.000 se avessimo rotto questa resistenza e infatti così è stato ma rompere questa resistenza ragazzi, rompere resistenza in generale hanno bisogno di volumi molto forti, volumi in questo caso bullish e in questi giorni ci sono stati quindi dobbiamo continuare in questo modo potrebbe essere solo qualche giorno positivo e poi continuare a scendere però ripeto io sono positivo e potrebbe esserci una ripresa per quanto riguarda il mondo cripto in generale ripeto che vediamo tantissimo verde finalmente con Ethereum un più 3% un più 47% negli ultimi 7 giorni vediamo tantissime altre criptovalute come ad esempio Cardana con ADA con un più 14% solo più 5% Dogecoin più 14% vediamo Shiba Inu più 11% e lo vediamo anche ad esempio con Crow con un più 8% e infatti proprio per questo per Crow stiamo continuando anche in questo caso questa risalita e vediamo anche qui l'incrocio della media esponenziale a 12 con quella a 26 periodi sul giornaliero sempre e questo è super positivo e infatti come primo target che mi sono preposto per Crow sono i 0.16 se riuscissimo a continuare come primo target ripeto potremmo vedere diciamo Crow raggiungere i 0.15 i 0.16 e questo potrebbe essere positivo anche Shiba Inu ha rotto dei livelli importanti da ieri e sono super contento anche per questo e come target qui sono i 0.14 cosa non impossibile e ragazzi mettiamo caso ad esempio che prendiamo di nuovo il prezzo di Crow se da qui riuscissimo a raggiungere i 0.16 sarebbero ad esempio un più 20% che fatto in leva ad esempio prendo posizioni di trading su Bybit eccetera potrebbe essere un profitto davvero incredibile ovviamente come al solito questi non sono consigli finanziari seguitemi per queste non so queste previsioni chiamiamole così che non sono previsioni sono solo supporto e resistenza e diciamo vedere l'andamento del prezzo però è importante comunque seguirmi ogni giorno e per questo vi invito a lasciare un bel mi piace per supportarmi e se non siete iscritti iscrivetevi assolutamente al canale cosa importante che volevo mostrarvi è il Bitcoin Fear and Greed Index siamo al numero 31 ragazzi numero 31 che non si vedeva se prendiamo questo grafico da vediamo qui da aprile ragazzi da aprile 2022 non eravamo sui 30-31 per il Bitcoin Fear and Greed Index quindi c'è stata tutta questa fase qui di ribasso molto forte e adesso vediamo questo rialzo potremmo continuare a salire certamente questo potrebbe essere però potremmo anche scendere di nuovo perché vi ripeto che ci saranno alcuni dati importanti il 27 cioè tra una settimana e ci saranno anche i dati sul PIL americano e se saranno negativi l'America sarà in recessione quindi per questo potremmo vedere il prezzo di Bitcoin e gli asset a rischio come il mercato tradizionale riscendere questo è importante da considerare un'altra cosa importante che volevo mostrarvi è che Crypto.com ha postato questo tweet su Twitter e ha dichiarato che finalmente si sono iscritti all'organismo agenti e mediatori che sarebbe l'OAM in Italia per fornire servizi di valuta virtuale e portafoglio digitale questo è importantissimo perché consentirà Crypto.com di offrire una suite di prodotti e servizi ai clienti italiani nel rispetto delle normative locali quindi è fondamentale ragazzi per gli exchange iscriversi all'OAM l'ha fatto anche a Young Platform e io spesso ve ne parlo di Young Platform per questo vi dico ragazzi se volete iscrivetevi a Young Platform tramite il mio link avete anche 10 euro di bonus e soprattutto c'è anche un'academy in cui c'è possibilità di ovviamente studiare il mondo crypto, cripto economia ripeto tutti i link sono qui in base in iscrizione come quello di Bybit eccetera però ripeto la maggior parte degli exchange si sta iscrivendo all'OAM e questo è davvero molto importante perché fa sì che possano operare in Italia tranquillamente in modo legale e soprattutto anche noi investitori siamo tutelati da tutto quello che concerne questi investimenti quindi ripeto questo è davvero importantissimo sono contento per Crypto.com tornando ai grafici volevo parlarvi di un'altra cosa importante per Bitcoin perché adesso vi ho parlato di cose belle bellissime però potremo anche benissimamente continuare a scendere perché se prendiamo questo periodo qui dal 9 maggio che Bitcoin è crollato fino poi al 5 giugno quindi quasi un mese diciamo c'è questo ascending channel in inglese canale ascendente che è un pattern ribassista e questo è molto importante da visualizzare perché se vediamo poi il prezzo di Bitcoin dopo questo canale ascendente è crollato fino a 18.000 19.000 e lo stesso pare si stia formando qui quindi anche in questo caso non prendete ad esempio questo disegno perché è fatto davvero molto male però potremmo vedere il prezzo di Bitcoin se segue questo pattern comunque riscendere in basso ovviamente questa qui è una previsione bearish però tenevo a mostrarvela perché mi sono ricordato in questo momento ed è davvero molto molto interessante un'altra cosa che stavo monitorando ragazzi e se andiamo sugli indicatori ad esempio eliminiamo un attimo questa cosa qui e cerchiamo il 4 main stablecoin market cap vediamo che sul settimanale ci sono tantissime ancora persone tantissime persone ancora scusatemi che hanno fondi in USDT che sarebbe questo qui in verde poi abbiamo persone USDC questo qui in viola questo qui è BUSD cioè Binance USD e qui abbiamo invece DAI e questo è importante ragazzi perché significa che tante persone hanno ancora fondi in queste stablecoins e potrebbe essere un dato positivo perché sono pronte di investire semmai il prezzo dovesse continuare in questo trend positivo purtroppo conviene sempre investire quando il prezzo è basso però tante persone la maggior parte delle persone entrano quando i prezzi sono alti questo è un peccato però tenevo a dirvi a mostrarvi questo grafico che ho rubato da Afterside Crypto Emiliano che saluto e rubato l'ho preso in prestito ed è molto interessante per questo volevo mostrarvelo come ultimissima cosa ragazzi date un'occhiata anche il link qui in basso in descrizione di nuovo perché c'è il link di Atani per chi non lo sapesse Atani è una piattaforma che permette di fare trading in maniera super semplice però collegando tutti i vostri exchange in un'unica piattaforma i vostri fondi saranno al sicuro sui vari exchange perché collegate solo le chiavi API e sfruttate Atani per fare trading tra i vantaggi più importanti ragazzi c'è TradingView Premium gratis che si può sfruttare tramite Atani avete gli alerts in alto a sinistra a cui si vedono dove c'è possibilità di essere contattati tramite sms tramite email semmai il prezzo dovesse raggiungere un livello importante che per noi ci serve per fare trading chiudere una posizione aprire una posizione e soprattutto ancora abbiamo anche un report fiscale in pdf cioè noi facendo trading aprendo e chiudendo posizioni poi per dichiarare queste cose di trading al commercialista abbiamo un report in maniera fatto in pdf scusatemi così possiamo scaricarlo e possiamo darlo al commercialista e il gioco è fatto ripeto il link è qui in basso in descrizione come al solito detto questo grazie mille a tutti per la visione di questo video se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace per supportarmi se non siete iscritti iscrivetevi al canale per continuare a seguirmi noi ci vediamo domani con la prossima avventura ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti